Due bellissime cupole affrescate, quella del Guercino e quella del Pordenone, insieme per dare ancora più forza all'attrattiva turistica di Piacenza. Un'unione che potrebbe in futuro allargarsi anche ad altre chiese e a altre cupole, in una città che vanta una elevatissima densità di edifici sacri sul territorio. La prevede un protocollo d'intesa firmato dalla Diocesi e dal Comune di Piacenza, proprietario della Basilica di Santa Maria di Campania, e dalla Banca di Piacenza che nel 2018 rese possibile la salita alla cupola del Guercino. Il protocollo si concretizzerà nella creazione di un'immagine comune delle due cupole oggi visitabili in città, quella del Duomo e quella di Santa Maria di Campania, ma anche la messa in campo di ulteriori azioni unitarie di promozione delle salite e soluzioni comuni sul fronte organizzativo. Credo sia un progetto molto bello perché riusciamo a mettere insieme, io definisco un po' due perle che fanno vedere la preziosità del nostro contesto urbano. Due salite stupende, il Pordenone e il Guercino sono bellissime, vale la pena visitarle, quindi mettere insieme le forze è sempre, non è uno più uno che fa due, qui è uno più uno che fa tre. Il primo passo sarà quello di avere un biglietto unico che permetta l'accesso ad entrambe le salite, il tutto guardando anche al turismo dei pellegrini che percorrono la via francigena che attraversa Piacenza da ovest a est.